Ciao ragazze, oggi siamo ad Arona, quindi siamo riusciti ad uscire da Milano e è una bella giornata, bellissima, quindi oggi sarete insieme a noi, ci vediamo dopo Ragazze, guardate che stigata, oggi ho il camera, me e io Walter, con la GoPro, ho capito che faccio che fa, poverino e vabbè, chi è di queste zone magari sta, conosce bene Arona, è veramente molto molto bene noi siamo a 30 km da casa, quindi spesso d'estate ci veniamo, quindi cominciamo da primavera fino all'estate e niente, qua c'è Ricky che è mezzo rincoglionito, guardate Ricky che bello il tuo mezzo è addormentato, lui guardatelo, mio chicchino, Cristian, ciao, poi ciao Ricky e niente, quindi andiamo Grazie a tutti 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 Ciao 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 Vai al prossimo mago.